Ciao a tutti ragazzi qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Sincero io non pensavo mai che sarebbe potuto accadere eppure ci siamo Ragazzi sono su Fortnite Mobile con un telefono che mi ha dato mio fratello, un telefono da gaming Non vi dico qual è la marca perché non è una sponsorizzazione quindi non vi dico nulla Però niente, mio fratello mi aveva parlato di questo telefono e ho detto quasi quasi come ho fatto col pc la scorsa settimana Provo a giocarci con Fortnite e vediamo come va Mi raccomando ragazzi per questo video cringissimo lasciate almeno 2000 like ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto altrimenti vi perderete appunto i prossimi video cringe che arriveranno Ho settato un po' di cose, ho messo già le impostazioni del controller, direi quindi di andare in game assieme Vediamo come va a finire sta cosa Non ho ancora giocato seriamente, mi sono limitato a dirla tutta a mettere le impostazioni del controller che utilizzo di solito Di sensibilità, comandi, insomma perché erano un po' tutti cambiati a dirla tutta nonostante che abbia messo il mio profilo Mamma mia, comunque voglio quanto è brutto con tutte queste cose schermo, veramente è inguardabile questo gioco così Tutta sta roba schermo non mi servirebbe manco, però vabbè non fa niente, ma poi perché le cose me le metti a destra? Doppie pistole? Ma da quando hanno rimesso le doppie pistole scusatemi? Oh comunque se voglio andare a destra nell'inventario devo premere a sinistra ma questa cosa non ha senso Cioè sono tipo invertiti i comandi, dai, che pozza grande, buona, ok 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 Oh buona roba, oh buona roba, fatemi chiudere un attimo Tra l'altro ragazzi, cavolo c'è un tizio sotto Oh oh Cosa scusami? Siamo seri? La gente sa giocare così bene? Allora, riproviamoci, è stato sfortunato prima Dove sto scendendo? Mannaggia volevo andare all'Easy Lake Dai questi mummi minano, eh quanta gente all'Easy No, no, aspettate ragazzi cambiamo zona Comunque non ho impostato bene i comandi, why you? Stupido io, dai, oh, kill? Serio? Tutti zitti, è andata da kill Ok, ora va un po' meglio diciamo, più o meno, però sì, sicuramente meglio Ho cambiato anche un po' le impostazioni qui delle armi In modo che se vado a destra effettivamente mi cambia l'arma a destra Perché prima erano un po' diverse Eh raga, credo di starmi soddisfacente, no? Più o meno Ok, perfetto Ok, lui riesce a mirarmi però fortunatamente Dato che è su mobile c'è una mira che fa un po' ahare Ok, mi fa molto piacere Ora io mi curo e lo vado a pushare Perché tanto è un tizio che non è forte, l'abbiamo capito Oh, no, no, sei da trasporta Eh, nammo Nessù Mamma mia ragazzi Mi sento così impedito, è tutto così complicato Qualcosina nei momenti un po' più tragici Che cos'è che si muove? Un pollo Il fatto ragazzi che non sono proprio abituato a vedere i comandi audio a schermo Cioè quindi io se mi avvicino a un tizio, lui sa già che mi sto avvicinando Ma per il semplice fatto che lui vede proprio a schermo che io mi sto avvicinando Io sta cosa non la capisco Tutti sti simboli che vedo che mi appaiono a schermo Per me non hanno alcun senso Cioè non riesco proprio a muovermi Per esempio no, sto tizio Si è girato, non mi ha neanche sentito Cioè palesemente non mi aveva sentito No, è quello, quello è il cinghiale Non è il nemico Ho scabbiato il cinghiale per il nemico Non si capisce nulla raga con sta grafica Mi prego, basta Dov'è? Dov'è? Ok, lo vedo, lo vedo, lo vedo, non farmi cadere Ok, ok, è lì, è lì, va bene, va bene Attenzione questo se mi mira bene Infatti mi fa malissimo Godo, godo tantissimo, brother, mi spiace Scappiamo e continuiamo, non fermiamoci Ho i tizi praticamente di fianco Ma li ignorerò Però con sti comandi, ragazzi Veramente non ha quasi senso Perché anche se io provassi a non farmi vedere da un nemico Cioè lui mi avrebbe palesemente in faccia Esatto, anche perché sento un tizio che arriva alle spalle E devo iniziare a curare? Decisamente sua, vabbè ragazzi vado via Ciao No, mi ha eliminato, Riff Allora, siamo molto calmi ragazzi Io sto andando a Pleasant Park Allora, ho capito che giocare da mobile È veramente una spiana nel fianco Nonostante io sia da controller Perché, cioè ragazzi, ti ci devi abituare In primis per i comandi a schermo Di audio che io non ho mai avuto Non ho idea di come funzioni, no? E sono piuttosto poco intuitivi Se posso permettere di dirlo Poi, vabbè, anche in realtà per la grafica Per lo schermo molto piccolo Cioè, capito? Vieni eliminato a caso Completamente a caso Perché non hai idea di dove la gente arrivi Non hai la più palida idea di dove la gente stia arrivando E poi, capito? Tutti minano così a caso Io, per esempio, questo tipo mi ha levato 90 Non l'ho manco capito che mi stava sbarando Qua se trovo mezza persona Mezza, ragazzi, che sa vagamente Come cavolo si gioca Cioè, non è che mi massacrano Eh, infatti, ho un tizio addosso Ho un tizio addosso Ma perché non mi fa Via E mi trovo che ora sparano me Tipo, no, da dietro Perché? Lasciatemi stare Cioè, voglio cercare anche di vincere In una partita, capito? Mi sono messo in impegno E, wow Perché? Perché sono venuto a fare tutto questo? Poi come si permette di aprirmi automaticamente le porte? Ma chi te l'ha detto che le voglio aprire automaticamente? Lasciale chiuse queste porte Secondo me è più senso mettere le armi Nei posti speculari rispetto a quello che di solito metterei È tipo di così Esatto, così io posso modificare l'inventario come faccio di solito Senza dovermi imbrogliare il cervello, ok? Mi lascio il fucile da fanteria per il momento Nonostante, immagino, possa non essere la cosa più intelligente da fare E c'è il tizio lì che si sta facendo dei materiali Ok, ottimo Perfetto Un headshot con il fanteria però dà soddisfazioni Per quanto lo possa trovare un po' noioso da usare Almeno con questi comandi a schermo Ho la certezza che non c'è nessuno nel palazzo che all'improvviso compare e mi massacra Io lo concedo, questo io lo concedo Buonasera No, non ho materiali 92, non so neanche io come ho fatto Eh vabbè, sì, mezzo Un panino sono, un panino Cioè questo seriamente mi è venuto a pushare Ma sei, sei Ma sei proprio una forma canina, sei Raga, fatemi acquistare il lancia sluperina da sto tipo, vai Sì, sì, grazie Ciao Qua già stiamo impediti perché Giocare da mobile è quel che è Oh, tizio Uh Ok, doppio colpo, carino Modifica Ok, è forte Più o meno No, cavolo, devo ricordarmi che la terziaria qua è messa malissimo Devo fare ste cavolate Dai Mamma mia ragazzi Non so questa cosa come sia possibile Non mi ha fatto neanche una volta danno ma Vabbè, sono stato fortunato e basta Via, scappiamo Non facciamo domande Uh, carino Ok, questo è un tipo che si farà eliminare facilmente Questa vaga impressione Ah, cavolo Mamma mia, sono stato un po' fortunato, mi sa No, dai Ma non si capisce nulla su sto gioco Non ha senso restare, raga Tanto se mi allontano così tanto non potrò mai colpirmi A prescindere da quello che accade Ma insiste Ah, no, un altro forse No, 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 no È il tizio, è il tizio, è il tizio Con l'arco, sì Io mi arrendo Allora Io letteralmente Provo l'ultima volta A giocare a questo coso E se non vinco non fa niente Io chiudo tutto E non lo riapro mai Più all'interno della mia vita Ma fino alla fine proprio Andiamo Non perdiamo tempo Muori Ma come fai? Un tanto, quattro, quattro Basta Io non ci gioco più Basta No, chiudo tutto Ciao, ciao Io dico Ragazzi, come fate a giocare a sto coso? Cioè, voglio vivo, voglio bene Ma come fate? Cioè, io ho utilizzato un controller Ed era ingiocabile Dico, voi no Che magari non usate il contro Come fate? Vabbè, l'importante è che vi siete divertiti Che abbiate visto il mio sclero Vi ricordo solo di lasciare un like, ragazzi E di raggiungere almeno i 2000 Per questa sclerata assurda Che mi ha fatto venire sto gioco Ma soprattutto iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto Noi voi Ci becchiamo alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti.